Ciao a tutti e benvenuti sul mio nuovo canale. Io mi chiamo Sabrina e ho deciso di aprire questo canale YouTube per parlare di cinema, quindi film in uscita, recensioni, eventi, mostre, festival, musica, concerti, viaggi, insomma tutto ciò che si può fare o non fare in giro per l'Italia con un occhio particolare. Sulla mia città, Torino, città in cui vivo da sette mesi circa. Niente, qui sotto troverete il link del mio blog, della mia pagina Facebook, del mio account Instagram e Snapchat per potervi tenere sempre aggiornati su qualsiasi evento. Cercherò di postare due volte a settimana video, cercherò di farlo il lunedì e il giovedì. E niente, per il momento vi saluto e vi aspetto numerosi. Ciao!